Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video dove voglio parlare di... anzi voglio dare la mia opinione ad una domanda che mi sono sentito fare e che ho letto diverse volte qui sul web come molti di voi sapranno è uscita sul mercato la Sony A7IV, la mirrorless di base di casa Sony quando è uscito il modello precedente, la Sony A7III, Sony l'aveva presentata come entry level del mondo mirrorless full frame di Sony e beh quel modello mirrorless entry level è diventato praticamente lo standard per il videomaker e per il fotografo che utilizza Sony quindi lo standard di media per un po' tutte quelle che sono le operazioni e i lavori di fotografia e video quindi l'operazione di Sony di voler creare un entry level che funzionasse aveva dato davvero i suoi frutti grazie ad un'ottima color science insieme a diverse specifiche, un corpo leggero e comunque ad una vastità di ottiche nel parco molto interessante ora è uscita la Sony A7IV attesa da davvero tanto tempo la Sony A7III ha un salattivo se non vado errato tra i 4 e i 5 anni di storia era il momento che uscisse un modello aggiornato e tanti l'hanno aspettata ne abbiamo parlato anche qui sul canale, abbiamo parlato di quelle che sono le feature di questa nuova camera infatti vi lascio il link da qualche parte del video per andarvi a sentire cosa vi ho raccontato ma c'è una domanda che mi sento dire, che ho sentito, che ho letto e che qualcuno mi ha fatto anche in privato dovrei vendere la mia Sony A7S III per prendere una Sony A7IV? o ancora, meglio scegliere una Sony A7S III o una Sony A7IV? beh, a queste due domande vorrei provare a dare la mia risposta, la mia opinione allora partiamo dal presupposto che sono due macchine, due corpi macchina oltre al fatto che hanno budget differenti ma sono indirizzate, indicate a due pubblici un po' diversi, anche se simili tra di loro io consiglio di guardare molto bene la scheda tecnica perché se è pur vero che con Sony A7IV si può ottenere un corpo generalista molto, molto performante con Sony A7S III si va incontro a una fascia di professionisti che hanno delle specifiche esigenze naturalmente qui però stiamo parlando del mondo del videomaking è naturale che per chi fa scatto fotografico probabilmente la serie S a meno che non ha bisogno di un'estrema capacità del sensore di lavorare ad alti ISO probabilmente non è pienamente indicato e quindi la domanda sorge spontanea se c'è un possessore, un professionista che ha investito su una Sony A7S III e questo professionista fa prettamente video perché dovrebbe passare ad un modello inferiore e sì, perché nella line-up la Sony A7S III rimane un gradino superiore alla Sony A7 IV che è sempre e comunque considerata la entry level della line-up di Sony considerate che la line-up di Sony è costituita da, in questo momento, Sony A7S III e Sony A7R IV, Sony A9 e Sony A1 dove l'A1 è la flagship in questo momento flagship poi ci sarebbe davvero da parlarne intorno a quella macchina perché è davvero un concentrato di tecnologia rispetto e di compattezza rispetto a tutte quelle che sono le competitor del mercato ma non divaghiamo, non andiamo su altri modelli voglio soffermarmi su questi due nello specifico e parlo prettamente di videomaker che ogni tanto scattano fotografia in questo caso la Sony A7S III rimane comunque superiore alla Sony A7 IV giusto per fare due confronti abbiamo un sensore sulla Sony A7S III un sensore da 12 megapixel molto largo con dei pixel molto grandi ed un'estrema sensibilità degli ISO quindi significa che noi possiamo lavorare realmente a 100.000 ISO senza avere problemi avere praticamente il materiale utilizzabilissimo mentre dall'altro lato Sony A7 IV ha un sensore da 33 megapixel quindi un sensore molto più denso e per quanto la tecnologia sia molto avanzata possiamo lavorare tranquillamente con dei file sicuramente non ho ancora avuto modo di provarla perché stanno consegnando in questi giorni i primi modelli sicuramente sui 12.000 ISO saranno dei file davvero lavorabili ma capite che c'è un'estrema differenza tra 100.000 e 12.000 naturalmente io sono sempre stato del parere nel raccontare nello spiegare che per me la fotografia o il video vanno ragionate quindi le cose vanno illuminate non bisogna mai eccedere nell'utilizzo degli ISO però è anche vero che ci sono delle circostanze tanti professionisti si ritrofano in circostanze dove hanno necessità enorme di lavorare ad altissimi ISO ed è quindi qui che entra in gioco questo corpo macchina che è molto più dedicato al videomaker piuttosto che al fotografo forse il fotografo di astrofotografia è più indicato sulla Sony A7S III perché deve scattare anche lui in condizione di zero luce in pratica e quindi un po' di ISO, un po' di gestione di ISO migliorata può soltanto che aiutare poi altra differenza enorme per chi fa video entrambe le camere hanno la possibilità di registrare in 4K a 60fps ma se in questa modalità Sony A7S III ha un crop sul sensore di circa 1,1x la Sony A7 IV va in un crop che si avvicina praticamente all'APS-C perché è un crop di 1,5x ciò significa che noi avremo un crop molto più esteso all'interno del sensore a differenza di quella per A7S III che invece diciamo che è marginale 1,1x non ci se ne accorge neanche con Sony A7S III si arriva fino a 4K 120 fotogrammi al secondo è davvero tanto di più rispetto a 4K a 60fps dipende sempre dal tipo di lavoro che voi fate perché nel caso contrario ad esempio se siete un fotografo che ogni tanto fa video o fate 50 e 50 quindi 50% di prestazioni fotografiche e 50% di prestazioni video e non avete la necessità di avere l'estrema versatilità della Sony A7S III beh A7 IV fa assolutamente al caso vostro anche perché in comune queste due camere portano con sé la registrazione di 10 bit in camera portano con sé l'H2S V come codec e la Sony A7 IV ha qualche piccola finezza in più come la correzione del briefing della messa a fuoco che è una cosa abbastanza intelligente ed interessante per il resto l'autofocus super mega performante di Sony A7S III la troviamo anche su A7 IV quindi le reali differenze sono nelle estreme caratteristiche della parte video e le estreme caratteristiche della parte fotografica della Sony A7 IV perché 33 megapixel per un fotografo sono già 24 megapixel erano un giusto numero 33 sono ancora meglio dall'altro lato per chi fa video più i pixel sono grandi quindi il sensore è meno denso meglio è la gestione degli alti ISO la mia risposta alle domande è molto semplice se già siete possessori di una Sony A7S III e fate prettamente i videomaker rimanete su Sony A7S III se invece dovete scegliere tra una Sony A7S III e una Sony A7 IV oggi dovete capire quanto video fate e quante fotografie fate dove avete la necessità di avere le migliori caratteristiche se fate un po' e un po' Sony A7 IV sicuramente è il non plus ultra al momento del mondo Sony mentre se fate prettamente video Sony A7S III è sicuramente la scelta migliore insomma con questo video volevo rispondere a queste due domande perché le ho lette mi sono state poste e quindi volevo dare la mia opinione rispondendo a queste domande insomma siamo giunti alla fine di questo video io vi ringrazio per averlo visto e spero che questo video vi abbia dato le risposte che cercavate io vi ricordo che attiva la mia pagina Patreon trovate il link qui sotto in descrizione e vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto a commentare se avete domande o dubbi o se semplicemente vogliamo avere uno scambio di opinioni trovate qui sotto in descrizione anche il link del mio profilo Instagram insomma cos'altro a dirvi io vi ringrazio per la visione noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video e vi ringrazio per la visione e vi ringrazio per la visione e vi ringrazio per la visione